Una grande squadra per una grande città. E' questo lo slogan scelto dalla FMC Ferentino per dare il via alla propria campagna abbonamenti. Quest'anno ci saranno agevolazioni per genitori iscritti al settore giovanile del basket Ferentino, studenti e anche over 70. Per tutte le agevolazioni però la sottoscrizione dell'abbonamento si potrà fare esclusivamente presso il palazzetto dello sport Ponte Grande. Ma quanto costano gli abbonamenti? Per il parterra numerato 220 euro, per la gradinata 140. Il costo singolo di ogni biglietto invece per assistere alla gara sarà di 20 euro per il parterra numerato e di 12 euro per la gradinata. I punti vendita dove poter acquistare il proprio abbonamento annuale valido per tutte le gare casalinghe, cioè 15, della FMC Ferentino nel campionato di Lega 2 Gold 2013-2014 sono l'edicola Sonni in Piazza Matteotti e il palazzetto dello sport, ovvero a Ponte Grande. La campagna abbonamenti si concluderà sabato 19 di ottobre.